Eccoci qua sul veliero, in compagnia con i nostri amici di avventura, Lucas Mazzarocco, Lilli e il sottoscritto Cariola, poi abbiamo qua le tre donzelle, qui abbiamo Grazia, poi c'è come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? Leonella, no? Come che è? Eleonora, ecco dai, Leo, Leo, eh vedi mo, è Leonella, Leo, vedi mo che ce l'ho preso? Leonella, adesso ti chiamo Leonella, Leonella, si chiama? Leonella, si chiama? Leonella, forza no? E lo chiamiamo? Grazie